buonasera a tutti quanti ragazzi benvenuti sul canale gameplays e un saluto al vostro amico salvo stiamo per scaricare il remnant 2 sono 65 gb 292 come state vedendo quindi finalmente tra poco ci giocheremo io con la mia connessione che ultra veloce ci sto dieci minuti a scaricarlo ok